Grande partecipazione alle due giornate di destinazione Abruzzo, la manifestazione regionale dedicata alla condivisione del piano strategico del turismo regionale con tutti gli operatori e gli stakeholders del territorio abruzzese. L'Abruzzo sta riprendendo all'interno dello scacchiere nazionale un'importanza sotto il profilo del turismo che merita, diciamo che è un turismo che non parte sul discorso che noi sentiamo parlare molto del turismo, io farei questo, farei quell'altro, in realtà si parte da dati. Noi oggi abbiamo un sistema, il sistema sito avanzato, di studio assolutamente dei dati di chi viene in Abruzzo, che età ha, se è uomo, se è donna, cosa sceglie, che tipo di turismo sceglie per poi puntare fortemente sulla promozione turistica e sulle azioni da mettere in campo per ritirare, attrarre sempre di più il turista verso l'Abruzzo. La presenza quindi alle fiere più importanti, conclusione del 2018 con Artigiani in fiera su Milano, è stata proprio il trionfo dell'Abruzzo rispetto a altre regioni che invece la facevano una padrone prima. E questo ruolo è stato riconosciuto ed è riconosciuto in questa fase da tutti coloro che vedono finalmente l'Abruzzo come un concorrente. E' chiaro che prima forse non eravamo nemmeno come concorrenti, oggi siamo alla pari ai concorrenti di tutti quelli che sono le regioni, paragonabili ovviamente all'Abruzzo, che non è possibile magari paragonare il flusso turistico su Venezia, così come sull'Abruzzo, perché solo Venezia è un po' l'attrattivo che è unico, così come Roma. Però sicuramente paragonarsi alle altre regioni comincia a diventare un fattore che ci fa piacere e comunque siamo in competizione, siamo lì pronti a giocare la nostra partita. Oggi in realtà sul turismo si sta puntando, anche devo dire c'è un fermento, c'è uno scuole, si fa programmazione, questo è bellissimo, fa capire quanto importante può essere l'attrazione del turismo anche come soluzione lavorativa.